Merlo Gruppe presenta delle macchine ormai consolidate nel mondo dell'agricoltura e soprattutto nell'ambito della finagione anche perché oggi stiamo parlando di sfalcio, andanatura, pressatura e per questo che Merlo presenta la gamma multifarmer unica nel suo genere quindi non solo un telescopico, un telescopico polivalente in grado di effettuare le lavorazioni di una trattrice ed è proprio per questo che i due modelli 34.7 e 40.9 sono in campo con andanatori da 7,90 m e rotopressa a camera variabile. Questo permette a un telescopico di adeguarsi perfettamente alle necessità di un'azienda che opera nell'ambito della finagione, nell'allevamento senza togliere quello che è la potenzialità del sollevatore telescopico quindi tutta la movimentazione, il trasporto e quindi la sistemazione dalla balla di fiena alle paglie a tutto quello che può essere movimentato all'interno dell'azienda. I multifarmer sono una gamma esclusiva per Merlo, è una gamma che racchiude moltissime caratteristiche tecniche esclusive dalla cabina sospesa che permette un massimo comfort all'interno della cabina per l'operatore quindi può muoversi indipendentemente dal suolo e indipendentemente dal suo carico all'interno del campo a velocità anche sostenute e questo permette veramente alla macchina di avere delle performance nettamente più elevate rispetto ai classici telescopici. Poi abbiamo le macchine con cambio variazione continua quindi CVtronic Merlo, anche in questo caso l'evoluzione ad alto profilo per un telescopico che permette di avere una macchina polivalente, una macchina che riesce ad avere consumi nettamente inferiori rispetto alla media e quindi un'economia di scale importante all'interno delle aziende agricole.